con le forze dell'ordine ci lasciamo tutte le foto con le mani in alto ok allora il forio CB se ci danno ok per piacere liberiamo la pista è la prima volta che lo dico in questa edizione dopo circa una mezz'ora, 40 minuti da quando abbiamo iniziato è un piccolo record di cui vado molto fiero teniamo la pista libera per piacere ricordiamo che ci sono sempre degli atleti che vorranno Michelangelo se sei d'accordo posso dare il via da qui manca un minuto alla partenza ragazzi tenetevi caldi tenetevi caldi qui sulla partenza tenetevi pronti mi raccomando dosatevi dosatevi non date tutto nei primi centometri e poi annaspate con la lingua da fuori ma aspettate un'altra dosatevi dosate lo sforzo dosate lo sforzo allora facciamo stacca 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 stalla ci sta un attimo solo ah ok ok appena arriva appena arriva contiamo i dieci appena arriva contiamo i dieci appena arriva Vincenzo Vincenzo farà la lepre non vincete 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 Michelangelo chi è che va sulla bici Michelangelo Michelangelo rimane sulla bici pronto pronti allora giovani facciamo insieme un conto da rovescia anche con i genitori partiamo dal dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno via tutti un Piazzone, l'ho fatta da là Respira Attenzione! Rico! Vai veloce! Corri! Più veloce! Più veloce Rico! Con numero 100 Enrico Fiorentino Il vincitore della gara Con grande vantaggio 121 del sederno Dario Pascari E arriva Ana con il 115 Ana Magasci Complimenti Ana Poi 120 e 114 Gian Maria Senese E Francesco Pernucci Complimenti Adesso arriveranno alla spicciolata Anche tutti gli altri Aspettiamo che arrivino tutti Poi magari procediamo anche con la premiazione Siamo migrante l'uninaio verosimilmente sullo fondo Dei dolori con gli ultimi Emanje Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti